premio della critica occhio pavese marco stella grazie a tutti grazie grazie a voi allora premio della critica è stato dato basandoci ovviamente sulla qualità e l'originalità delle performance portate sul palco e la presenza scenica è qualcosa su cui tu lavori effettivamente oppure ti viene naturale spontaneo no ci lavoro e anche con difficoltà è stato un cambio radicale negli ultimi due anni perché comunque è una cosa fondamentale una parte fondamentale del lavoro che vorrei fare e quindi dovevo passare proprio da quello che è il saggio di danza del bambino al costruzione di un percorso per diventare un performer e allora ho iniziato a lavorare proprio su tutti gli aspetti più importanti è stato un percorso immagino quindi la redazione di occhio pavese ci ha visto bene ci ha visto benissimo grazie meno male allora complimenti a marco stella e alla prossima grazie ancora ciao